E ora noi che ci facciamo con questo? Non lo so. Dovremmo tirarlo fuori, credo. No, prima dobbiamo fargli una foto. Perché non chiamiamo Kenny e gli chiediamo di venire con la macchina fotografica? Ma il laboratorio non apre prima delle dieci e Kenny non ha il cellulare. Dai, tira ancora. Ci credi? No. Tu lo conosci? Dovrebbe essere uno dei ragazzi della scuola Haddon. E adesso che cosa dovremmo fare? Non lo so, forse dobbiamo aspettare che arrivi la scientifica. Probabilmente. E quello cos'è? Mi pare sangue. Accidente, che strano. Ma che cavolo è? Non ne ho idea. Ma qui c'è qualcosa che non va. Potrebbe essere un omicidio. Sì, me lo sento. Sì, potrebbe essere. Oppure un suicidio. Hai visto là? Che cosa? Un ragazzo. In mezzo agli alberi. No. Ci avrei giurato, lì c'era un ragazzo. Stai bene? Sì. Sì, sto bene. Ciao! Ciao!